La NASA ha dichiarato che entro pochi mesi darà in via al programma di addestramento dell'equipaggio che avrà l'onore di svolgere la prima missione di colonizzazione di Marte. Le selezioni dei futuri marziani avranno luogo a gioca a Osta 2017, la nota manifestazione a Oltana. La partenza prevista per il 2022 vedrà l'arrivo dell'equipaggio dopo ben 8 mesi di viaggio ad una velocità di ciò c'era da privido di ben 60 km al secondo. Marte è il più simile alla Terra tra i pianeti del sistema solare. Alcuni moduli a capsula supertecnologici verranno assemblati da rover direttamente in suolo marziano, poco prima dell'arrivo degli astronauti. Questi ultimi disporranno di alloghi e laboratori interconnessi tra loro e di una fitta rete di pannelli solari che garantiranno l'autonomia energetica necessaria al completamento della missione. A chi spetterà dunque l'onore di essere il primo uomo a sparcare fiumate? Molte nazioni hanno messo in campo squadre di professionisti a rappresentarle. di tutti cosa aspetti ad essere uno di loro? Solo la squadra che si distinguerà in molteplici discipline verrà scelta. Iscriviti alla caccia spaziale di Gioca Aosta. Entra nella storia.